il giorno dopo il giorno dopo vedi una volta roma roma città aveva anche più rispetto di roma squadra perché quando a roma perdeva il giorno dopo pioveva o comunque c'era un cero plumbeo perché la città era triste perché la squadra della città che è la roma appunto aveva perso adesso pare che non viene frega più un cazzo manca la città c'è questo scollamento che è avvenuto su tutti i fronti anche la città oggi c'è un sole che spacca e oggi pomeriggio vado a fare una bella passeggiata in centro mi riapproprio della mia città me ne parto a casa me ne parto a piedi da casa e vado fino in centro e poi torno ok le partite del pomeriggio sti cazzi delle partite del pomeriggio io mi godo la mia città che forse l'unica cosa che mi è rimasta che dire ma io potrei fare anche l'incazzato per carità però purtroppo devo fare invece il razionale perché questa è questo è un campionato assolutamente in linea con le aspettative che avevamo inizio stagione se avete la pazienza io non ce l'ho ma se voi avete la pazienza da andare a riprendere i video dell'inizio stagione io parlavo di una squadra da quinto sesto posto perfetto è quello che siamo una squadra da quinto sesto posto siamo stati probabilmente illusi per quel novembre dicembre dove la squadra nel suo peggior momento a livello infermieristico ha tirato fuori gli attributi non lo so probabilmente con una condizione fisica brillante in quel momento mi si dice non è più un problema fisico per cavità ci sarà soltanto un problema mentale ma è peggio è molto peggio se è un problema mentale perché sai fisico comunque basta fare il richiamino uno dice vabbè ma perché hanno fatto il richiamino a dicembre quindi magari c'è un gennaio un po così ma questa ragazzi è la peggiore partenza solare di campionato non so da quanti anni avevo letto non ho approfondito ma quello che ho letto bene è che lo scorso anno la squadra di di francesco la squadra che ha fatto un campionato di merda di di francesco aveva punti in più due punti tre punti in più rispetto a questa qui nello stesso periodo storico solare ok quindi che dire ok adesso c'è da lottare per l'eurova league perché io l'ho detto lottare aspetta lottare per l'eurova league come competizione perché fortunatamente ancora siamo dentro non so per quanto ma ancora siamo dentro e non voglio proprio l'ho detto un'altra volta non voglio proprio sentire manco lontanamente l'ipotesi che si possa essere eliminati col jank ma dove stanno i tifosi della volta quelli che andavano a ribaltare vabbè non voglio fare questi discorsi perché no io dico a loro perché io non sono mai andato a ribalta niente non so il tipo che che va lì fa cose lancia pesci o pomodori insomma non so quel tipo io mi limito a fare i miei commenti eccetera però una volta c'erano tifosi nel certo spesso comunque e tornando a noi europa league europa league come competizione ma anche europa league come qualificazione prossimo anno ok perché è quello l'obiettivo basta guardare la classifica basta guardare lo stato di forma delle squadre che stanno avanti e la loro qualità di calcio rispetto alla nostra il fatto che comunque con se la quarta e l'atalanta e tu ci arrivi a pari merito comunque ho detto di sera negli scontri diretti stai messa malissimo per cui so anche di più i punti ma questo sei mi pare so anche di più perché comunque perdi lo scontro diretti con l'alascio bene o male ci ha fatto due pareggi se dovesse se dovessero alternarsi poi non so come funziona se c'è uno spareggio qualcosa ma non pensiamo adesso queste cose perché non c'è proprio la possibilità benché minima cioè vedendo i fatti a meno che questa è una squadra schizopranica e bipolare che da domani inizia a giocare tutte meravigliose partite a vince non mi sembra proprio insomma il il caso questo ma guardiamoci alle spalle ragazzi guardiamoci alle spalle perché io allora verona vogliamo guardare verona ma verona gioca un calcio fantastico e verona è aggressivo in ogni parte del campo il verona quando c'ha palla l'amministra che sembra una grande squadra e verona ha battuto la juve si è elevata le sue soddisfazioni ok per cui il verona sta meglio di noi e devo ancora venire a giocare qua vogliamo parlare del napoli ragazzi il napoli è partito da grande tranne la sconfitta con te c'è dove comunque il napoli quando perde ok ma c'ha le sue occasioni le sue opportunità c'ha i cosi che si può lamentare il var cioè comunque non è una squadra che subisce è una squadra che comunque d'attacca e c'è posta che fragile fragile dietro c'è posta che magari prende il gol ma il napoli superiore dove è nata a milano è la battuta con l'inter è nata con la juventus in casa gli ha rotto il culo cioè comunque si è elevata le sue soddisfazioni il milan ragazzi nonostante sia una squadra secondo me tolto vibra è inferiore alla roma secondo me però comunque a livello calcistico io la sto vedendo in queste ultime gare ma gioca un bel calcio gioca bene nel derby se non fosse stato per il calo psicologico dovuto magari alla doppietta in pochi minuti che ha subito ma andava a giocare il milan ha giocato un primo tempo che gli aveva rompe il culo all'inter e anche nella ripresa comunque nonostante l'inter fosse cresciuto ha avuto le sue occasioni quindi che cazzo stava a parare il parma ragazzi sono tante le squadre che giocano il lecce il lecce che viene qui settimana prossima tu vedrai tu vedrai che dice vabbè ma il lecce il lecce è un cazzo il lecce viene a giocare pallone se la gioca a viso aperto ok per cui non te la porti da casa sono cazzi anche a qualificarsi in Europa League perché tu mentalmente sei scoppiato non esisti più disgregato la volta che a voi fanno dichiarazioni del tipo ah vabbè ma adesso ci riprendiamo paolo per sì sì possiamo uscire ma che cazzo puoi uscire ma sei entrato proprio in un tunnel tu non puoi uscire mai da sta storia vabbè comunque ripeto non c'è da essere incazzati questa è una squadra che sta facendo un campionato in linea con le aspettative per cui buon avete fatto un buon lavoro complimenti grazie